Cremona in centro è un logo, è un hashtag, è una proposta per rigenerare il centro di Cremona nell'ultimo fine settimana di aprile e in tutti i weekend di maggio, che peraltro è anche il mese del Festival Monteverdi e di eventi dedicati al jazz. Periodo scelto non a caso, ma analizzando i dati sulle presenze a Cremona. Tutti gli appuntamenti saranno presentati con un'apposita brochure che il Comune metterà in distribuzione dalla prossima settimana. Comune di Cremona, distretto urbano del commercio e tutte le associazioni di categoria si sono unite, questa volta garantendo da una parte i negozi aperti anche la domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00, dall'altra agevolazioni per la sosta, quale il parcheggio gratuito per due ore al sabato in Viale 30 Trieste a Villa Glory, quest'ultimo gratis anche la domenica dalle 16 alle 20, nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 28 maggio. Agevolazioni anche per il bike sharing. Molti gli eventi in programma, dalle invasioni botaniche di fine aprile, promosse da Confcommercio, al mercato europeo di Confesercenti, nel primo weekend di maggio, con oltre 60 espositori, tanti stand e eccellenze gastronomiche. Poi la rassegna Vanitas Market il 13-14 maggio, con vintage modernariato e autoproduzioni artigianali. La settimana successiva sarà la volta del museo viaggiante della Mille Miglia in Piazza Duomo. Se i riscontri saranno positivi è previsto il bis a ottobre.